Musica Buongiorno, bentrovati, appuntamento di giovedì 22 agosto 2019 con la nostra rassegna stampa Martino Seri che si apre come di consueto con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi Iniziamo con l'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro, ovviamente anche sui giornali locali attenzione incentrata sulla eventuale possibile formazione di un nuovo governo Vediamo l'edizione del centro, eccola qui, vedete il titolo che non riguarda un fatto locale ma proprio la situazione politica del nostro paese Governo si tratta sui nomi, il PD di Zingaretti detta le condizioni per l'alleanza con i 5 Stelle Dice no ad un conte bis, Mattarella, Presidente della Repubblica, inizia le consultazioni e dà una stretta sui tempi, accordo o si vota? Vediamo ancora un altro titolo, sempre per quanto concerne la politica Salvini avverte Berlusconi non andare con la sinistra Vedete poi nella foto, nella foto grande, il capo dello Stato Mattarella con il Presidente della Camera Roberto Fico Vediamo l'Abruzzo invece l'agosto, il mese di agosto nella nostra regione è stato positivo il turismo da record, i sindaci esultano per presenze turistiche numeri più che buoni per la nostra regione Poi posti di lavoro, invece in Abruzzo, Comuni Asli Atenei, pronte, 31 assunzioni Vediamo anche la cronaca Morto dopo lo schianto, 22 indagati ex operaio era stato coinvolto in un incidente a vasto sotto inchiesta ai sanitari di Pescara E andiamo proprio a Pescara ma per parlare dei lavori, lavori a settembre Viale d'Annunzio, il palazzo pericolante verrà demolito e poi ci spostiamo nell'area Vestina a Penne, in particolare per un fatto di cronaca accaduto l'altra sera, accoltella il fratello Gemello dopo la lite in casa per gelosia Vediamo anche in basso lo sport il Pescara, Tuminello e il mio anno l'attaccante presenta la nuova stagione si candida per un torneo da protagonista blizza a casa Milan per Gabbia del Pescara che potrebbe davvero chiudere ufficializzare nelle prossime ore l'arrivo del gioiellino della formazione rossonera a proposito di Pescara ormai ci siamo perché tra due giorni prenderà il via il campionato di Serie B ne parleremo dopo per quanto riguarda la pagina sportiva ora andiamo a vedere la prima pagina del centro di Chieti Lanciano Vasto con due titoli che riguardano Chieti e la provincia a Tessa ferita letale all'arteria femorale trovata senza vita a 45 anni poi ancora invece Chieti in questo caso palazzo da demolire in centro ma da due anni è ancora lì vediamo anche in basso calcio allarme tra i dilettanti campi sportivi rischio chiusura molti terreni di gioco molti campi non sono a norma con le leggi sulla pubblica sicurezza vediamo anche una notizia che riguarda Miss Abruzzo che è Francesca Persiani di Giulianova la finale di Miss Abruzzo si è tenuta a Nereto vediamo la prima pagina di Teramo del quotidiano il centro sequestra la ex e ne abusa per quattro ore Giulianova arrestato 42enne di Morrodoro aveva anche il divieto di avvicinarsi a lei poi Teramo le domande bocciate ricostruzione una pratica su tre non riesce a superare l'esame al Badriatica non ha tutti i permessi chiuso il locale di una consigliera e poi il calcio di Serie C Teramo festa di presentazione questa sera evento in piazza e poi sono state comunicate le date e gli orari delle gare del girone di andata del campionato di Serie C girone C a cui prenderà parte la formazione bianco-rossa siamo alla prima pagina del centro edizione di L'Aquila Avezzano e sul Mona non c'era fatta il 22enne Tiberio che era rimasto investito mentre faceva footing la tragedia ad Arischia lo studente universitario è morto in ospedale Tagliacozzo in quattro avvelenati dai funghi fratelli e cugini in ospedale e poi sul Mona lo sfogo dell'attore Cirilli io non pagato dopo lo show vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero l'apertura è dedicata proprio a questa tragedia avvenuta nell'Aquilano ad Arischia di Berio Giorgi universitario di 22 anni falciato mentre fa Giorgi travolto vicino casa riconosciuto dal padre l'investitore ha dato l'allarme adesso è ricoverato in stato di sciocchi il PM ha disposto l'autopsia e poi il giallo dell'uomo senza nome sul cadavere aveva solo gli slip ieri mattina questo drammatico ritrovamento nel belvedere di San Vito Chietino la vittima secondo una prima ricostruzione sarebbe proprio precipitata dal belvedere il primo esame sul corpo non presenterebbe diciamo visibili tracce di violenza poi ci spostiamo a Penne lite tra gemelli uno all'ospedale per le coltellate poi a Silvi l'addio al Marittimo Deustacchio tutto il paese in chiesa ricorderete questa drammatica vicenda accaduta proprio nel tratto di mare antistante Silvi vediamo anche in alto siamo a Silvi per un'altra notizia drammatica dolorosa la cagnolina Zora veglia il corpo della padrona per una settimana e poi l'Aquila perdonanza conto alla rovescia per il via a questa nuova edizione poi il calcio di serie B dopo l'acquisto di Castanossi il Pescara visita a casa Milan come dicevamo prima potrebbero finire in bianca azzurro almeno un paio di ragazzi in forza alla formazione rossonera soprattutto al settore giovanile e poi torniamo alla giova party non è ancora finita ore ultime ore decisive per l'ufficializzazione dell'evento a Montesilvano se ne saprà qualcosa nel corso della riunione che si terrà nella giornata di oggi che sarà quella probabilmente risolutiva vediamo anche il quotidiano la città il titolo di apertura riguarda la cronaca sequestra e violenta l'ex fidanzata Giulianova 42enne di Morodoro arrestato dai carabinieri non si rassegnava alla fine della storia e poi poltrona vuoto ecco come si schierano i parlamentari abruzzesi vediamo anche altre notizie ASL di Teramo ultimo atto per Fagnano la nomina di 13 capi di dipartimento e poi Giulianova il Cursal diventerà un cineteatro e poi ancora Colonnella Fanghi Puzzolenti chiesto lo stop per una fabbrica e poi ennesimo salvataggio sul corno piccolo escursionista recuperato in elicottero per una distorsione poi Giulianova la politica il nuovo ospedale una poltrona nel comitato dei sindaci ancora Giulianova senza patente dopo la rissa denunciato un rom lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi tra poco torneremo a parlare di questioni locali vedremo anche nella seconda parte dei servizi ma ora siamo all'edicola nazionale parte la trattativa PD Movimento 5 Stelle questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera in edicola questa mattina no del Quirinale al governo istituzionale tempi rapidi un esecutivo politico o il voto e Conte dice io non in gioco il retroscena del dimissionario presidente del consiglio e poi mio figlio la droga e la bugia prima di morire c'è questa intervista alla madre di Federico Bertollo il giovane ucciso da una overdose poi parliamo del caso Groenlandia così come è stato definito da molti la vendetta del presidente degli Stati Uniti Trump niente visita in Danimarca presidente che aveva nei giorni scorsi detto di voler acquistare la Groenlandia che è un'isola politicamente appartenente alla Danimarca vediamo la Repubblica il PD va a vedere lega in ginocchio questo è il titolo che riguarda la politica il PD va a vedere nel senso che è iniziata questa trattativa non facile non semplice con il movimento 5 stelle Zingaretti una telefonata con Casaleggio apre però i giochi e poi vediamo anche da Parigi all'Italia le parole del presidente francese Di Maio il vero perdente dice Macron il presidente dice ancora allearsi con la destra estrema è sempre un errore o fiducia ora o fiducia in Mattarella così le parole del presidente francese vediamo anche il fatto quotidiano falsa partenza Zinga Conte no Renzi Conte sì ovviamente c'è anche questa diatriba tutta interna partito democratico tra Zingaretti che è il segretario che è l'ex segretario nonché ex presidente del consiglio si tratta dunque si continua a trattare sul nuovo governo vediamo in alto Salvini si barrica il viminale sui social raccoglie critiche e poi meglio le urne ma tentiamo un governo votino gli iscritti parla in questa intervista che è all'interno del giornale Paola Taverna senatrice del movimento 5 stelle il giornale siamo tutti nei guai governo di estrema sinistra il mostro PD Movimento 5 stelle promette immigrazione e patrimoniale imbarca i partitini ha già i numeri Conte Ficotria il premier è un rebus questo è il titolo del giornale e Giorgetti gelò Salvini basta fare tutto da solo alta tensione nella Lega tra il numero uno del partito Salvini e il numero due di fatto della Lega ovvero Giorgetti vediamo anche il messaggero Movimento 5 stelle PD primi sì nodo premier però da risolvere in breve tempo il segretario Dem lancia 5 condizioni per il governo ma occorre discontinuità e poi omicidio diabolico spunta la pista romana attenzione e saluti romani ai funerali del capo ultralaziale che si sono tenuti a Roma effetto quota 100 parliamo di lavoro in 12 mesi via 35.000 professori a settembre scatta il primo esodo degli insegnanti vediamo anche il prossimo quotidiano il mattino PD Movimento 5 stelle in nodo del premio ovviamente tutti i titoli principali riguardano la crisi di governo e così anche sul mattino e poi vediamo più in basso calcio Lozano il business dei maxidiritti tv con il messicano il Napoli nel ricco mercato centro americano ovviamente il quotidiano campano riversa gran parte delle sue attenzioni sulla formazione del presidente De Laurentiis vediamo anche un titolo che riguarda proprio Napoli San Giovanni Bosco ritorna in ospedale l'incubo formiche colonia di insetti nei locali di accettazione il sospetto sabotaggio subito la bonifica vediamo anche libero spettacolo pietoso il cambiamento un brutto cabaret scrive il quotidiano libero Matteo Crocifisso ma la DC ha campato con i simboli religiosi vorrebbero strozzarlo con il rosario scrive ancora libero il sole 24 ore borse spread rally estivo in attesa delle banche centrali Wall Street cresce ancora piazza affari ieri ha segnato un più 1,7% differenziale giù a 202 punti e poi parla il presidente di Confindustria Boccia che riguardo proprio la crisi di governo nel nostro paese dice non importa il colore politico il governo dia risposte all'economia vediamo anche la stampa di Torino un nome entro lunedì o il voto Mattarella preme sui grillini sul partito democratico poi vedete il titolo ne parlavamo prima Copenaghen non cede l'agroellandia Trump annulla la visita in Danimarca vediamo poi a centro pagina si parla anche di destinazione luna perché la Russia manda un robot nello spazio vediamo anche il tempo Zingaretti sola speranza per il voto segretario del PD alza la posta perché non vuole il matrimonio con il movimento 5 stelle ma a contro Renziani e capi storici grillini disposti a sacrificare Conte ed altri si moltiplicano i poltronisti vediamo ancora un titolo qui di fianco compreso il rinvio dell'IVA bollettino della crisi Salvini ho già una manovra da 50 miliardi vediamo anche il manifesto a rotta di colle si parla ovviamente vedete la foto dall'alto del colle della residenza del Presidente della Repubblica perché è il Presidente della Repubblica dover gestire questa difficile crisi di governo i tempi sono molto stretti vediamo anche il quotidiano La Verità l'inciusia già il programma più Europa e più immigrati la direzione DEM dà mandato a Zingaretti di trattare con i grillini il segretario mette sul tavolo 5 punti con una spolverata verde e due priorità totale fedeltà all'Unione Europea è svolta profonda nella gestione dei flussi per Palazzo Chigi il nome coperto è David Sassoli che vedete nella foto ma questa volta il partito del PIL non teme il voto Borsi è su e spread da 200 nonostante il caos scrive il quotidiano La Verità vediamo anche il secolo.it Zingaretti Croupier serie incredibile di nomi Conte in Europa Letta Ufico a Palazzo Chigi se non Draghi e Prodi Alcolle Un incubo scrive il secolo.it ci sono alcuni dei nomi dei candidati per la presidenza del Consiglio per la presidenza della Repubblica e poi ovviamente per l'incarico di Presidente del Consiglio vediamo anche il quotidiano avvenire quotidiano della conferenza episcopale italiana crisi a passo di corsa Mattarella stringe sui tempi vedete il titolo di apertura esecutivo con programma chiaro di ampio respiro o si va alle urne il PD propone 5 punti per un'intesa con il Movimento 5 Stelle dalle prime consultazioni volontà di proseguire la legislatura la Lega insiste le elezioni l'unica via vediamo poi quest'altro titolo vedete la foto di una classe scolastica perché scuola a rischio di brusco stop 60.000 precari senza concorso e come leggevamo prima anche dal messaggero il nuovo anno si annuncia complicato perché con quota 100 potrebbero essere 120.000 i supplenti in cattedra lasciamo dunque avvenire l'ultimo quotidiano per quanto concerne l'edicola nazionale possiamo tornare ai quotidiani abruzzesi ripartire da pagina 2 del centro lo vedete si tirano le prime somme per quanto riguarda le presenze turistiche nella nostra regione agosto deve ancora finire quest'anno il turismo è da record parlano i sindaci di luoghi simbolo della costa e della montagna abruzzesi da Pesco Costanzo a Roccarasso ad Alba Adriatica e Fossacesi è stato un boom di presenze parco WWF super soddisfatto per la nomina di San Marone il nuovo presidente del parco Caserta vicepresidente nazionale del WWF noi pronti a collaborare i problemi da risolvere prima di tutto c'è l'orso vediamo anche la prossima pagina che ovviamente si ricollega al titolo di apertura che riguarda le presenze turistiche nella nostra regione davvero da record anche nei posti diciamo più distanti anche dalla costa ovvero presenze all'interno e anche sulle coste in questo caso siamo a Villa Santa Maria perché a Villa Santa Maria persino Baresi Beppe Baresi ex campione capitano dell'Inter va a vedere la scritta Dux che vedete nella foto arrivano i turisti dopo la polemica sul simbolo fascista scolpito nella roccia il sindaco Finamore ha accompagnato personalmente l'ex capitano dell'Inter il primo cittadino anche l'ex calciatore in vacanza da noi per il Ferragosto mi ha dato ragione ha detto che la storia non si cancella da Alessandro non ha fatto una bella figura dunque prosegue la polemica a distanza tra il sindaco di Villa Santa Maria e il centro-sinistra su questa scritta scolpita nella roccia a Villa Santa Maria che molti vorrebbero cancellare andiamo avanti parliamo ancora di cronaca dalle nostre regioni dal turismo al lavoro chi assume in regione ci sono i concorsi in autunno comuni Atenei e Asl sono 31 i posti di lavoro a disposizione servono soprattutto agenti di polizia municipale istruttori amministrativi esperti in informatica e ricercatori universitari imprese sociali in Abruzzo 12.475 addetti lavorano nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria in 5 anni sono aumentate quasi del 20% e siamo a Pescara e iniziamo dunque la cronaca dalle province partiamo proprio dal capoluogo adriatico dal palazzo pericolante che vedete in foto in Viale Gabriele D'Annunzio a settembre ci sarà la demolizione attesa da 6 anni questo è il titolo di apertura partono i lavori per abbattere l'edificio di 9 piani sgomberato nel 2013 perché è a rischio crollo previste imponenti misure di sicurezza l'intervento di abbattimento e ricostruzione durerà due anni leggiamo ancora in questi due sommari lo stabile verrà smantellato pezzo per pezzo utilizzando una macchina con pinze idrauliche per evitare di causare danni alle strutture circostanti la spesa prevista per smantellare e realizzare un nuovo edificio è di 7 milioni il contributo concesso dallo Stato per la ricostruzione post-sisma è di 1 milione e 900 mila euro Parco Nord Masci in cassa il primo via libera il sindaco dice ho ricevuto dalla forestale parere favorevole al progetto ora parlerò con i proprietari vedete nella foto l'area verde della riviera dove dovrebbe sorgere il Parco Nord di Pescara proseguiamo emergenza sociale nel capoluogo adriatico i 20 rifugi dei disperati ecco la mappa del degrado ruderi parchi portici terreni tutti i luoghi dove sopravvivono i senza tetto è stata fatta questa mappa del rifugio dei disperati nella città di Pescara sono spazi abbandonati che si trovano in ogni quartiere della città anche nelle zone insospettabili come il centro a pochi passi dalle strade modaiole dello shopping la maggiore concentrazione di nascondiglie e ricoveri di fortuna si trova a Rancitelli Villa del Fuoco e i gazebo di legno della Pineta sono case dei poveri all'aperto vedete in questa vedete in questa foto tornano i bivacchi anche in piazza primo maggio il consigliere Foschi rilancia l'allarme sulla presenza dei clochard in piazza primo maggio e parliamo anche di parliamo ancora anche di politica perché nei giorni scorsi c'era stata un po' di polemica politica all'interno della maggioranza con Masci il sindaco che però fa chiarezza e dice la maggioranza è compatta nessuna lite il sindaco rassicura sulla tenuta della coalizione dopo il rimprovero agli assessori ma salta il vertice convocato per il 28 agosto molti politici sono ancora in vacanza vedete il titolo del centro dell'altro giorno Masci Bacchette sui assessori basta con le iniziative personali vediamo anche la cronaca stabilimento siamo sempre a Pescara trovato senza il bagnino multa di 1000 euro andiamo nella prossima pagina per siamo a pagina 21 per leggere qualche altro titolo Ghetano Pavone di Cappelle allenatore muore a 55 anni sport in lutto per la scomparsa del tecnico all'ospedale di Chieti gli amici lo ricordano un gigante buono oggi i funerali a Montesilvano e sempre oggi ci sarà l'addio allo scrittore Nuccitelli tra lacrime e dolore vediamo in alto questo titolo che ci porta a Montesilvano perché oggi a Palazzo di Città ci sarà un importante evento rigopiano incontro sui rimborsi ai familiari infatti questa mattina a Montesilvano si ritroveranno i sindaci dei comuni coinvolti nella tragedia del resort e si parlerà a ragion veduta dei rimborsi che spetteranno ai familiari questa iniziativa che parte proprio dal comune di Montesilvano dalla proposta del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martini se saranno presenti dunque i sindaci dei paesi che purtroppo hanno avuto dei lutti in questa tragedia che ricordiamo ha causato 29 morti vediamo la cronaca siamo nel Pescarese a Serra Monacesca il surzionista si sente male soccorso con l'elicottero vediamo ancora Montesilvano lo show del 7 settembre meno 16 giorni giovanotti oggi avremo il sì al concerto la prefettura ha dettato ieri al comune le regole per la sicurezza nel pomeriggio il nuovo vertice e la decisione definitiva vedete anche il post su Facebook di Lorenzo Cherubini giovanotti domani sera aveva scritto ieri pomeriggio dovremmo avere la conferma per il 7 settembre nella spiaggia di Montesilvano in Abruzzo dai allora noi a tal proposito possiamo andare a parlare di questo evento che dovrebbe tenersi il 7 settembre a Montesilvano perché ieri mattina in prefettura a Pescara c'è stata una riunione propedeutica a quella di oggi alle due riunioni e due incontri che ci saranno oggi in prefettura a Pescara che dovrebbero portare al sì dell'evento a Montesilvano il 7 settembre abbiamo portato i nostri microfoni anche il sindaco proprio della città adriatica Ottavio De Martini si è fatto un po' il punto della situazione spiegando che proprio nella giornata di oggi ha detto ieri il primo cittadino dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca allora possiamo andare a vedere il primo servizio siamo presso la prefettura di Pescara in corso una riunione se non definitiva comunque molto importante per sapere se l'atteso Giova Beach Party si terrà a Montesilvano il 7 settembre è in corso una breve pausa sindaco qual è la situazione? si sta lavorando lagremente come detto nei giorni passati al tavolo al fine di definire tutti gli aspetti che potessero essere inficianti per lo svolgimento del concerto resta l'ottimismo dei giorni scorsi si sta parlando e lavorando come giusto che sia domani ci sarà un ulteriore appuntamento con il comitato per l'ordine della sicurezza pubblica e solo dopo questi due tavoli si potrà avere una risposta definitiva relativamente all'ok per lo svolgimento noi siamo pronti come detto nei giorni passati abbiamo posto in essere tutte le azioni che possano essere appunto premianti per Montesilvano con la relocation del concerto e siamo fiduciosi e ottimisti e speriamo di poter regalare alla nostra città al nostro territorio abruzzese questa tappa molto importante del tour di giovanotti comunque sempre più vicina all'ufficialità ripeto non voglio fare anche per scaramanzia non voglio andare al di là di quello che ho detto perché ci sono talmente tanti elementi che oggi insomma dire qualcosa che vada oltre quello che ho detto potrebbe risultare insomma inopportuno e al tempo stesso inesatto quindi io mi tengo stretto quello che è stato fatto il lavoro fatto il lavoro che si sta facendo ritengo che ci siano delle condizioni questo sì come detto nei giorni scorsi attendiamo con fiducia domani diciamo che dovrebbe essere la giornata risolutiva ma non è detto che poi magari al tavolo magari ci siano delle condizioni che possano risultare appunto da modificare quindi non è detto che domani sia la giornata definitiva vediamo ancora città Sant'Angelo assalto di turisti e dopo la Cina si punta la Russia il centro medievale vedete il titolo continua ad attirare visitatori dall'Italia e dall'Europa e poi città Sant'Angelo ancora fondi per San Bernardo il comune cerca in Europa le somme per la chiesa distrutta siamo a Francavilla nuovo assetto politico la Lega in Consiglio Luciani il sindaco dice ma io governo lo stesso Nicola Di Rico invece a Francavilla parlando di arte espone le sue opere San Giovanni Teatino scuola civica musicale bando per trovare nuovi docenti Italcaccia manifestazione cinofila con 60 concorrenti a Villanova di Cepagatti siamo alla cronaca della provincia di Pescara aggressione a Penne a Coltella il gemello dopo la lite in casa uomo di 43 anni scappato in auto ma è stato acciuffato dai carabinieri fratello è ferito alle gambe e alle braccia boom di turisti a Caramani con un nuovo piano per i parcheggi 2000 visitatori al giorno da tutto il mondo dunque torniamo anche all'articolo che abbiamo visto nelle prime pagine del centro boom di turisti nella nostra regione all'anno domani torna la corrida l'annese Penne Basic Rick ecco la festa della musica andiamo avanti andiamo a vedere la prossima pagina ci porta a Chieti l'inchiesta di Pescara ex operaio morto in ospedale 22 indagati Basto Ruba sotto l'ombrellone 36 anni fermato dai bagnanti San Salvo spaccio chiesto il patteggiamento Chieti palazzo da demolire e allarme sicurezza proseguiamo San Vito Chietino trovato morto sotto il belvedere giallo la vittima è ancora senza nome si ipotizza il malore ma non si escludono le altre piste dall'overdose fino all'omicidio oggi si saprà qualcosa in più su questo ritrovamento drammatico all'alba di ieri al belvedere di San Vito operario schiacciato dall'albero condannato un imprenditore e poi a Lanciano suor Cesarina la procura dispone l'autopsia rinviati funerali della religiosa che era stata travolta da un'auto a fine luglio ed era morta due giorni fa a Pescara in ospedale a Tessa tragedia in casa ferita letale donna perde la vita 45 anni era nel bagno in una pozza di sangue l'allarme lanciato da un giovane al quale aveva offerto ospitalità Lanciano Mastro Giurato Rioni vestiti a festa preparativi per la settimana medievale ecco i primi appuntamenti vediamo ancora siamo alla pagina di Teramo del centro ricostruzione l'ufficio speciale un terzo delle pratiche viene bocciato i problemi riguardano la carenza di documentazione o il mancato rispetto dei tempi da parte dei professionisti e poi Teramo il comune partecipa ai bandi di MIT e MIUR e poi ancora Roseto ruba nell'albergo dove stava da sfollato Teramano entra in una camera con la chiave sottratta ma viene sorpreso con la refurtiva la cronaca ci porta Giulianova sequestra la ex e abusa di lei per quattro ore Giulianova un 42enne di Morodoro arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento imposto per altre violenze nuovo intervento sul corno piccolo si fa male al ginocchio alpinista soccorso e poi al badriatica il comune chiude il ristorante Chinotti non ha i permessi tra i gestori c'è la consigliera comunale di maggioranza Antonella Gasparroni leggiamo in questo titolo del centro e poi in basso nel campo scuola degli alpini il telefonino è vietato Teramo 26 ragazzi a lezione di protezione civile Silvi l'omaggio della marineria all'uomo travolto dalla barca ai funerali tanti ex colleghi pescatori arrivati anche da pescare il dolore dei familiari il ricordo di un vicino amava moltissimo il mare d'estate ogni sera faceva lunghe nuotate vedete le immagini delle esequie di Mario Deustacchio siamo sempre a Silvi Scordella soddisfatto più sicurezza dice il sindaco vedete il titolo di spalla nella cittadina rivierasca del Teramano ci spostiamo di qualche chilometro a nord Pineto dopo un anno ascensore ancora fuori uso proteste a Santa Maria Valle per il mancato funzionamento dell'elevatore per disabili siamo all'Aquila la tragedia di Arischia dell'altra sera Tiberio non ce l'ha fatta morto a 22 anni si è spento in ospedale il giovane ricoverato dopo essere stato investito mentre stava facendo una corsetta automobilista indagato strade di sangue sette vittime in 30 giorni la lunga lista di decessi nell'Aquilano tra le cause degli incidenti di alta velocità e distrazioni alla guida gli amici dello studente un destino crudele tantissimi messaggi di cordoglio e di vicinanza ai parenti del giovane universitario andiamo ancora avanti siamo nella Marsica la cronaca anche in questo caso ci porta a Tagliacozzo fratelli e cugini avvelenati dai funghi quattro finiscono in ospedale uno è grave dai residui di cibo è stato accertato che sono stati confusi con i porcini morto da 5 giorni dramma della solitudine Tagliacozzo pensionato trovato nel letto di una casa di San Donato l'allarme dei parenti dal Lazio e poi andiamo a Sulmona lo sfogo del cabarettista Cirilli non mi hanno pagato strali del comico sui promotori del premio video mai più esibizioni in città la replica falso andiamo avanti siamo però arrivati allo sport allora possiamo fermarci per qualche istante andare in pubblicità a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore poi torneremo in studio per la seconda parte andremo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero del quotidiano la città seconda parte di mattino 6 siamo le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero parliamo della regione verde d'Europa ovvero l'Abruzzo parchi surreale lentezza ritardi attese finalmente approvato dal Lazio il piano del Gran Sasso presidente in sospeso nelle altre due grandi di aree protette e siamo a Civitella del Tronto la fortezza più ammirata con 50.000 visitatori l'anno vedete nella foto il paesaggio esterno della fortezza di Civitella siamo in provincia di Teramo invece siamo a Pescara ora per parlare di imprese uccise da tasse e burocrazia grido d'allarme della CNA Pescara e Montesilvano aliquote oltre 60% nel 2018 il direttore Carmine Salce mette in fila le tante emergenti tra pedaggi autostradali ZES pressione fiscale e sportelli Lumaca gubadia sul flop del mercato etnico ambulanti spaventati dalle minacce il rappresentante della CGL spiega le ragioni degli stalli rimasti vuoti il comune c'è posto in via Pepe clochard maggioranza divisa tra pugno di ferro e assistenza e poi cassonetti sul marciapiede proteste in via d'Ascanio a Pescara Rigopiano indennizi più vicini 20 sindaci al tavolo di oggi al comune di Montesilvano ne parlavamo prima per discutere come redistribuire i 10 milioni dello Stato i parenti delle 29 vittime tale elargizione è un'altra cosa rispetto ai risarcimento da stabilire in sede giudiziaria è sempre questa mattina a Montesilvano iniziativa con Andrea Sciarretta fondi della Polizia Municipale per il progetto Noemi a Penne coltella il gemello in casa lo lascia a terra nel sangue tragedia sfiorata a Penne arrestato un 43enne sempre a Penne ospedale senza autobus e senza bar doppio rebus per il sindaco Semproni Giova Beach Party oggi la decisione abbiamo visto prima in servizio con l'intervista al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martini in serata si saprà se il concerto si svolgerà come dovrebbe a Montesilvano a Città Sant'Angelo festa in corso tra stand e mercatini vediamo poi in basso da Amici al D'Annunzio serata con Giordana Angi la cantautrice italo-francese a Pescara e poi le Paiotte semifinali della sfida ai Fornelli e poi Pop Court a Pianella cortometraggi d'autore tanti gli eventi a Pescara in provincia siamo alla pagina dell'Aquila investito mentre Fafuting muore a 22 anni dopo 5 ore di agonia abbiamo visto anche dal centro il titolo di questa tragedia che ha coinvolto questo giovane di Arischia vediamo poi in basso riaprite la rampa di accesso dal progetto case siamo a Bazzano in corso una raccolta di film per chiedere alle autorità la riattivazione della strada l'Università dell'Aquila tra le migliori nel mondo sono state stilate le annuali classifiche e per quanto riguarda l'Università dell'Aquila ci sono ottimi riscontri vedete nella foto in alto il rettore Paola Inverardi andiamo in basso per vedere altri due titoli il primo che riguarda musica e sagra e tutti gli appuntamenti all'Aquila e nei dintorni del capoluogo di Regione poi invece la cronaca nel carcere di Preturo boss al 41 bis tenta il suicidio salvato dagli agenti della polizia penitenziaria siamo alla pagina che riguarda la perdonanza celestiniana la perdonanza di Leonardo in questo caso molti gli artisti che mi hanno chiesto di tornare qui a dieci anni dal sisma parliamo di Leonardo De Amicis che è direttore artistico della manifestazione biglietti a pagamento nulla di strano il ricavato servirà a far studiare i ragazzi del conservatorio ha spiegato Lions Club Francesco Sabatini la croce di Celestino e poi gemellaggio con Pescina nel nome di Ignazio Silone questo è l'altro titolo che riguarda la cultura siamo alla pagina di Avezzano Sulmona e bufera sulle accuse di Gabriele Cirilli il sindaco Cassini ha invitato su Facebook lo showman a fare chiarezza è stato un progetto d'amore e di amicizia il comico la mia città mi ha fatto perdere la faccia con le persone con le quali avevo preso un impegno dunque vedete la polemica a distanza Avezzano mercato pericolo taglio anche per gli altri alberi Roccaraso impiegare i detenuti nel recupero ambientale Fucino ecco 50 milioni con corredo di polemiche Avezzano Pupiavati e Stornelli da oggi di nuovo sulla scena tornando a Sulmona di essere pronto soccorso 13 ore di attesa il numero degli operatori non è adeguato alle esigenze di un'utenza ampia leggiamo in questo sommario infine Celano arrestato mentre vende coca per strada siamo alla pagina di Chieti del messaggero dei falconieri alle fototrappole guerra a sporcizia e discariche nel mirino rifiuti abbandonati piccioni ed escrementi dei cani è un'emergenza l'assessore comunale di Chieti bevi d'acqua civiltà e controlli così ci saranno dice più pulizia e Tari meno cara il DEA di secondo livello di primo si appella a Marsilio ora decida si continua a parlare di questa questione che coinvolge gli ospedali di Chieti e Pescara arrestato dopo un doppio inseguimento a Dragonara in basso per Ciccone una festa anche a Chieti il ciclista verrà premiato ma scoppia la polemica tra l'assessore Viola e Brecciarola e poi il personaggio con Pascal Tinari che è il miglior sommelier nella classifica della nuova guida dell'Espresso esulta il ristorante Villa Maiella giallo del cadavere sotto al Belvedere siamo a San Vito la prima ispezione cadaverica ha riscontrato un'edeva polmonare nessun segno di violenza l'uomo sulla quarantina aveva solo gli slip il PM Serena Rossi ha disposto l'autopsia Ortona ideale ai tempi di tosti e della bella epoch questo l'evento in programma Vasto farazia di portafogli e cellulari inseguito e arrestato ancora Vasto TAC emodinamica e medici ecco le spine dell'ospedale Vastese e poi Lanciano polo museale si rinnova la magia del cielo e ancora nell'area frentana Altino da domani il festival del peperone Siamo alla pagina di Teramo del messaggero post sisma Rivera annuncia la ricostruzione decollata l'accelerazione resa possibile dall'aumento di personale che è passato da 28 a 47 unità le liquidazioni di spesa sono cresciute del 773% sotto la nuova gestione Siamo a Teramo lavori e traffico corona sarà un settembre nero dice il consigliere comunale in basso un campo sportivo nella ex scuola Carlo Febo a San Nicolò Corropoli beni archeologici in vibrata progetto di alta formazione grande folla per l'addio Deustacchio siamo a Silvi tutta la cittadina in chiesa per salutare l'ex marittimo straziato dalle eliche del motore di un peschereccio al badriatica cabaret al via due serate dedicate al risata Giulianova sequestrati 300 capi di abbigliamento dalla polizia municipale ancora Giulianova ospedale troppi pazienti la chirurgia in affanno e poi Roseto il barbiere di Siviglia domani alla villa e poi Silvi veglia la padrona morta per una settimana la cagnolina Zora non voleva che nessuno si avvicinasse al corpo della donna Morrodoro violenta la ex per quattro ore arrestato siamo arrivati siamo arrivati allo sport dobbiamo però andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo da pagina 3 con la tragedia dell'Aquila 22 anni muore investito facendo footing non ce l'ha fatta lo studente universitario Tibero Giorgi travolto martedì sera lungo la statale 80 ad Arischia San Vito Chietino cadavere di un uomo trovato ai piedi del Belvedere abbiamo visto prima anche da centro e messaggero si indaga per scoprire le cause del decesso e poi in basso l'Aquila per donanza celestiniana il fuoco del morrone è arrivato a donna Sanità ultimo atto per Fagnano i capi di partimento 13 nomine per il manager della ASL prima del trasferimento alla direzione regionale di Sanità siamo a Giulianova Costantini chiede il nuovo ospedale un posto nel comitato dei sindaci il primo cittadino di Giulianova prosegue sulla linea del predecessore Mastromauro scrivendo alla ASD e ad Alberto che è il sindaco di Teramo la crisi in Abruzzo ecco come si schierano i nostri 21 parlamentari il nuovo governo giallorosso ovvero Movimento 5 Stelle e PD governo di responsabilità e voto subito tutte le opzioni in campo tra gli eletti e ovviamente posizioni diverse Ponte Stretto Lacona inghiottito dall'erbacci la situazione è peggiorata rispetto all'incidente di marzo che ha causato l'avviso di garanzia all'assessore e poi Montori ultimatum all'amministrazione Facciolini l'opposizione chiede la convocazione del consiglio comunale altrimenti andiamo dal prefetto e poi la presentazione perché è pronta la mappa tridimensionale del territorio di Crognaleto a Isola a Isola del Gran Sasso la tendopoli dei giovani di San Gabriele entra nel vivo la manifestazione iniziata ufficialmente con l'arrivo della fiaccola della speranza portata dai podisti di Montorio i turisti promuovono le spiagge di Tortoreto spiagge pulite mare in salute villeggianti da tutta Italia hanno invaso la cittadina turistica vibratiana a Colonnella chiesta la sospensione delle attività della Stam il gruppo di minoranza denuncia i cattivi odori e poi ancora ci spostiamo a Giulianova un cineteatro nelle sale del Cursal l'idea dell'assessore di Carlo ma non saranno realizzate nuove costruzioni e poi denunciato dopo la rissa il rom viene beccato sullo scuterone senza patente il lutto a Dio a Dendio Pomponio fotografo e scrittore il ricordo di Sandro Galantini un uomo innamorato della sua terra e del mare identificazioni e sequestri nel blitz anti abusivi sulle spiagge di Giulianova da parte degli agenti della polizia municipale operazioni disposte dal comandante Roberto Iustini proseguiamo siamo alla pagina di Roseto Atri e Silvi partiamo da Silvi il sindaco promuove la stagione di Silvi nota stonata la raccolta dei rifiuti e poi Morrodoro sequestra e violenta l'ex compagna 42 anni finisce in Manette Roseto degrado ed incuria nella strada frequentata dei turisti la denuncia del consigliere Angelo Marcone sullo stato di abbandono di via Marina pagina pagina della cultura a Roseto arriva il figaro di Rossini barbiere di Siviglia la villa comunale il capolavoro del grande compositore musica colta e cosa funziona e cosa no con la Santi questa sera a Palazzo Bindi a Teramo dunque questi gli eventi principali noi siamo arrivati così alle pagine dello sport che apriamo parlando e andando a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi iniziamo con la gazzetta dello sport Icardi Day il caso dell'estate scade oggi infatti l'ultimatum del presidente del Napoli De Laurentiis rimane la Juve ma in cambio l'Inter accetta solo Di Bala il Napoli vuole una risposta lui pensa di dire di no Milan Correa perché si farà la trattativa è destinata a concludersi positivamente magari sul filo di lana e intanto questa sera festa al Franchi siamo a Firenze Ribery ex Bayern Monaco si presenta mi manda Tony Firenze è già pazza del suo fenomeno e poi vedete il titolo di spalla dossier campionato meno due pronti via che brividi ecco le trappole dei primi due turni Juventus e Napoli avvio insidioso poi subito lo scontro diretto a Torino per Inter e Milan partenze che sembrano almeno sulla carta agevoli siamo al Corriere dello Sport Ribery e Notte Viola vedete in alto l'arrivo del neo giocatore Viola e poi prigioniero Napoli irritato con la Juventus disturba i cardi voci su un nuovo incontro milanese Giuffrida Paratici De Laurentiis convinto che non lo vogliano in azzurro ma prima o poi bisognerà decidere con Icardi che rischia altrimenti di perdere una stagione perché non rientra nei piani tecnici del tecnico Nerazzurro Riccardi Juve un affare spacca Roma e poi Lozano operazione scudetto per il messicano al Napoli tornando all'Inter la società Nerazzurra oggi riproverà con la Fiorentina per Biraghi vediamo anche tutto sport Manzuchic porta Icardi alla Juve esclusivo il piano di Paratici dunque c'è anche questa opportunità questa possibilità e poi un urlo toro si parla dei playoff di Europa League questa sera ore 21 ci sarà la gara tra i Granata e il Warriors Mazzarri vedrete faremo una grande partita dunque società Granata che vuole proseguire la corsa in Europa noi invece andiamo a vedere le pagine dello sport in chiave abruzzese partiamo lo faremo tra qualche istante con le pagine dello sport del quotidiano il centro ecco la prima Juventus e Roma trattano per Rugani in giallo rosso ovviamente il mercato sta entrando nella fase finale vi ricordo che si chiuderà il 2 settembre e poi delirio viola per Ribery Fiorentina che onore qui grazie a Tony l'ex stella del Bayern Monaco lo vedete nella foto con la sciarpa viola l'attaccante ha firmato un biennale da 4 milioni di euro più bonus avrà la maglia numero 7 gran colpo di mercato della società toscana e poi il Torino si gioca una fetta di Europa League questa sera l'andata della sfida con il Walhampton vediamo invece il Pescara quello che accade in casa Biancazzurra parla Tuminello e il mio anno puntiamo tutto sui playoff l'attaccante mi piacerebbe dice emulare immobile ho imparato molto da Geco l'attaccante del Pescara che dovrà cercare di non far rimpiangere a parte immobile soprattutto Mancuso lo scorso anno 19 reti con il Pescara intanto tra due giorni inizia il campionato di serie B ci sarà il fischio d'inizio del torneo cadetto con i Biancazzurri impegnati sabato alle 18 alla Rechi di Salerno si riparte dove il Pescara aveva concluso lo scorso anno nella stagione regolare ovvero con la Salernitana Rebus in difesa Bettella non è al meglio Scognamiglio è squalificato e dunque bisognerà capire chi giocherà al centro della difesa Di Grazia ha recuperato Crecco e Farelli sono invece ancora infortunati a casa Milan per Gabbia Vitturini verso la Juve 23 Defino vuole il prestito del baby difensore Rosso Nero l'alternativa è Drudi muro bianconero per il terzino Beruatto oggi primo allenamento con il Pescara per il Cipriota Castanos che dunque inizia ufficialmente la sua seconda avventura con la maglia Biancazzurra andiamo a vedere anche la pagina che riguarda la Serie C il Teramo spera di annunciare bombaggi questa sera ultimatum al trequartista del Pordenone voluto da Tedino Lavellino su Infantino e Barbuti intanto firma un biennale a Fano vediamo anche il messaggero come parla di Pescara e Teramo in particolare Pescara visita casa Milan il presidente Sebastiani incontra Massara nel mirino i centrocampisti Sala e Gabbia Castanos ieri in città Vitturini potrebbe approdare alla Juventus under 23 sfuma sottile punto di domanda ma sembra davvero difficile il ritorno del giocatore oggi in forza alla Fiorentina Scognamigno salta l'esordio da ex ma siamo pronti parla il difensore del Pescara che non sarà della partita della Rechi perché squalificato andiamo a vedere anche due titoli in basso che riguardano volley e pallannuoto si ecortona la sfida di mister Lanci pallannuoto sette bello mix tra giovani e veterani per il Pescara che si appresta a disputare il prossimo campionato di serie A2 maschile e siamo al Teramo anche sul messaggero stadio Teramo emigra per l'esordio casalingo di campionato niente ipotesi rieti spuntano le marche dunque bisognerà capire dove giocherà la prima gara casalingo a Calasicula Leonzio la formazione bianco-rossa per l'indisponibilità del Bonolis intanto si raffredda la pista che porta a Bombaggi zoom su Ferrera oppure sul Rizzo del Catania vediamo anche il calcio donne Sabatino Nazurro per due match europei infine vedete la mezza pagina del giovedì che il messaggero dedica alla UISP over 40 partenza il 20 settembre tutto il calendario con tutte le giornate di campionato del campionato over 40 UISP del comitato provinciale di Pescara torniamo alle pagine del centro per vedere altre notizie di altri sport eccellenza siamo però ancora al calcio passerella del lanciano con i tifosi domenica c'è la Coppa Italia e poi rugby Unione Rugby L'Aquila al lavoro in attesa di conoscere il futuro e poi podismo a crecchio domani sera il memorial con la fanfara dei carabinieri vediamo anche la pagina dedicata ai dilettanti con la grana dei campi sportivi la sfida della messa a norma problemi ovunque per reggere il passo con le leggi sulla sicurezza in basso l'amante alle finali mondiali siamo alla vera il 14enne velista pescarese brilla in Canada nella classe nelle classi giovanili il talento della Lega Navale protagonista con la nazionale dopo il successo nella tappa dell'Europa Cup a Torbole vediamo anche la prossima pagina ancora calcio dilettantistico Perano Porcher di rinforzi Alba Montaurei tre punte per il prossimo torneo vediamo ancora Marini dal Pizzoli al Cesaproba il Real Carsoli pesca dalla promozione laziale in basso calcio a 5 Patriarca riparte dall'Aquila obiettivo salvezza e poi basket la gioia responsabile del vivaio del Giulianova infine tennis internazionali all'Aquila fuori anche Quinzi e Vavassori chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano del quotidiano la città si alza il sipario sul rinnovato Teramo ne parlavamo prima questa sera presentazione in piazza previsti video messaggi di Lapadula e Donnarumma due ex Biancorossi doc che dunque faranno gli auguri in diretta durante questa presentazione alla formazione del tecnico Tedino e dunque si parte ufficialmente per la nuova stagione vediamo questo pezzo di articolo nella parte bassa perché come leggevamo anche prima non si giocherà a Rieti la prima gara di campionato casalinga per il Teramo Teramo Sicula in programma il primo settembre non si giocherà lo stadio centro d'Italia Magno Scopigno di Rieti infatti in corso di definizione la ricerca di un'altra location da parte della società Biancorossa costretta ad emigrare altrove visti i lavori ancora in atto all'interno dello stadio Bonolis dunque non si giocherà a Rieti probabilmente si giocherà nelle marche con un campo ancora da identificare vediamo in basso la palla canestro Teramo a spicchi da domani inizia la preparazione pre-season la squadra Biancorossa punta a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno stirpe carichi dice per una grande stagione andiamo a vedere anche la prossima pagina che ci porta a parlare del trofeo Tommaso Di Febo vince il Qatar la squadra guidata da Fabio De Stacchio si impone ancora grande successo di pubblico per la quindicesima edizione del torneo Tommaso Di Febo la manifestazione dedicata al grande appassionato di basket prematuramente scomparso nel 2004 manifestazione che si è tenuta dal 6 al 12 agosto a Lido la vela di Roseto degli Abruzzi dunque vedete le foto con la premiazione dei vincitori di questa quindicesima edizione del torneo Tommaso Di Febo siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo a proposito di sport l'appuntamento di questa sera come sempre come ogni giovedì alle 21 con Velò con il nostro Jacopo Forcella e con Luciano Rabottini e poi invece per quanto concerne l'informazione della nostra rete vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie ancora e buona giornata grazie a tutti